Mancano pochi giorni a Natale. Quali immagini possono caratterizzare il Natale di quest'anno? Immagini che possiamo prendere dal presepe, un presepe che noi facciamo con gioia in famiglia, mettiamo dalle statuine che rappresentano un po' quello che noi siamo o quello che noi vorremmo essere. Nel presepe io vorrei che fosse messo quest'anno in evidenza la statuina di San Giuseppe. Ho portato questa perché mi sembra significativo. Giovane, bello, uomo giusto, più volte abbiamo detto avrà avuto 16-17 anni quando si è sposato, uomo giusto che fa silenzio, che fa silenzio, ma nel suo silenzio permette a Cristo di svolgere la sua missione di portare la salvezza al mondo. Un silenzio che non è necessariamente chiusura delle labbra ma dilatazione del cuore. Un silenzio che è il guardiano dell'anima, un silenzio che è cravido di mistero e ciò di cui ha bisogno soprattutto la presente generazione dei giovani, che poveretti pur pieni di paura parlano, parlano, ridono, sghignazzano ma hanno il cuore pieno di paura. Allora bisogna dire impara quel silenzio che ti aiuta ad ascoltare Dio, ad ascoltare te stesso, ad ascoltare gli altri per camminare con gioia verso un mondo che sarà migliore se tu sei migliore. La seconda immagine, la seconda statuina è l'uomo stupito, l'uomo meravigliato. In Francia lo chiamano le bergetone, il pastore stupito. Lui arriva davanti alla capanna di Betlemme, ha le mani vuote, ma il cuore è pieno di desiderio, di un incontro che sia bello. Ha le mani vuote, non è niente da dare, ma si lascia illuminare dalla luce della capanna. E io immagino che la Madonna, vedendolo, vedendola a mani vuote, per poter prendere i doni degli altri pastori, gli abbia messo in mano Gesù. Allora lui, che aveva niente in mano, riceve tutto. Perché il cuore è in attesa, perché il cuore è stupito, perché la meraviglia, lo stupore è l'anima della nostra società. Un mondo che andrà avanti perché noi siamo entusiasti, parole che vuol dire essere in Dio. Un mondo che andrà avanti per il senso della meraviglia. Il mondo perirà quando mancherà il senso della meraviglia, vivrà finché noi siamo stupiti. Quindi il pastore è stupito. La terza immagine, direi semplicemente una strada che va verso la capanna di Vetelembra, dalla quale esce la luce. Luce che attira le genti, luce che illumina il cammino verso il futuro. Perché dico questo? Perché quest'anno la Chiesa si è messa in cammino sinodale. Cioè vuole che i cristiani prendano le loro responsabilità di essere dei battezzati. E come tali profeti, sacerdoti, re, missionari, non cristiani ma Cristo. Cioè persone che sanno che la Chiesa non è Papa, vescovi, sacerdoti, parroci. Siamo tutti noi che prendendo le nostre responsabilità viviamo con un cuore nuovo, ci sentiamo responsabili dei fratelli. Ci carichiamo di Dio, ci carichiamo di bellezza, ci carichiamo di pace per comunicarla alle persone che incontriamo allora. Il mondo cambierà perché cambiamo noi stessi.